Ciao a tutti e benvenuti sul canale per un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ovvero il 31 marzo e il primo aprile. Come sempre ti chiediamo, prima di cominciare un piccolo favore, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Un semplice gesto che a te non costa nulla, ma che ti assicurerà di ricevere nuovi video in anteprima, e per noi rappresenta un grande sostegno. Grazie! Akan decide di vendere le sue azioni della Yaman Holding. Zuleya, sorpresa dalla sua decisione, pretende che lui le dia delle spiegazioni e quali. Akan risponde che questa sua decisione deriva dal fatto che lei non vuole più lavorare con lui nella stessa azienda. Di fronte a questo, Zuleya ammette di non provare più nulla per lui e se ne va, mettendo così fine alle loro speranze di riconciliazione. La situazione si fa sempre più tesa, mentre Betul si prepara a compiere un atto estremo nella sua prima notte di nozze. Rivela il suo piano a sua madre e a Abdul Qadir. Nel frattempo, Betul sta procurandosi una sostanza velenosa per uccidere Cholak. Tuttavia, Betul, manifestando la sua diffidenza sulla qualità del veleno. L'uomo che le vende la sostanza la rassicura, svelando che la stessa sostanza è stata utilizzata per uccidere Ali Rahmet Fekli, somministrandogli un'iniezione nel collo che lo ha ucciso in meno di due minuti. Questa rivelazione non fa altro che aumentare le aspettative di Betul mentre acquista il veleno. Nel frattempo, Abdul Qadir cerca di dissuadere Betul dal compiere il suo terribile piano, supplicandola di non sposarsi con Cholak. Ma Betul è irremovibile nelle sue decisioni, affermando che non c'è più spazio per ripensamenti. Abdul Qadir è devastato, poiché è profondamente innamorato di Betul e si trova impotente di fronte alla sua determinazione. La situazione si avvicina sempre più a una conclusione tragica e inevitabile. Il giorno delle nozze di Betul e Cholak è finalmente arrivato. Wahab accompagna Betul, insieme a Shermin e Fusun, presso il salone di bellezza per prepararsi per la cerimonia. Tuttavia, il percorso viene improvvisamente interrotto da uomini che bloccano la strada. Tra di loro c'è Kadir, accompagnato dai suoi uomini, determinato a impedire il matrimonio tra Betul e Cholak. Con il volto coperto, Kadir punta un'arma contro Wahab e porta via Betul con sé nell'auto. Betul, impaurita e disperata, cerca di chiedere di essere liberata, ma durante un momento di distrazione, Wahab si libera degli uomini di Kadir e punta l'arma contro suo fratello, che nel frattempo ha riconosciuto. Kadir insiste nel chiedere che Betul gli venga consegnata, ma Wahab lo minaccia. Fratello, basta, lasciala andare o sparo. Kadir, incredulo, gli chiede se è così pazzo da sparare a suo fratello. L'accusa di pazzo scuote profondamente Wahab, che reagisce con una violenza improvvisa e spara. Betul, vedendo il suo amato cadere sotto i suoi occhi, è devastata. Piange e supplica Kadir di aprire gli occhi, ma il suo amato non risponde, lasciando un silenzio angosciante nell'aria. Improvvisamente, Kadir si risveglia e si rialza di fronte a suo fratello, rimproverandolo. Come hai potuto sparare a tuo fratello? Wahab cerca di dire qualcosa, ma le parole Ghigli si impigliano in gola, incapace di esprimere il rimorso che prova. Ferito, Kadir si sforza di rimettersi in piedi e se ne va con Betul, mentre Shermin chiama la figlia. Betul, distratta e sconvolta, non presta attenzione, mentre Wahab, tormentato dai sensi di colpa, si dispera per ciò che ha fatto al suo fratello. Successivamente, Shermin e Wahab lasciano il luogo. Fiusun, terrorizzata, scappa via a piedi, rifiutando l'accompagnamento di Shermin, dichiarando di voler preservare la propria vita da sola. Luftier, nel suo ruolo di sindaco ad Interim, convoca una riunione con i suoi consiglieri e altre figure di spicco di Chukurova, tra cui Zuleya. Improvvisamente, fa il suo ingresso Hakan, richiedendo il permesso di intervenire. Con fermezza, espone il suo impegno nel contribuire al benessere di Chukurova fin dal suo arrivo. Apertamente, rivela il suo profondo amore per la signora Zuleya, affermando che questo sentimento persiste nonostante il suo rifiuto. Tuttavia, dimostra comprensione e rispetto per le ragioni che l'hanno spinta a respingere la sua dichiarazione d'amore. Conscio di non poter ottenere la sua mano e riconoscendo il suo rifiuto, Hakan annuncia la sua decisione di lasciare Chukurova una volta per tutte. Rivolgendosi a Zuleya, le dona tutte le azioni della Holding Yaman senza richiedere nulla in cambio, avendo già organizzato tutto tramite i suoi legali. Nonostante il silenzio imponente che segue, una voce autorevole solleva obiezioni, cercando di dissuaderlo dall'abbandonare la città. Tuttavia, Hakan rimane fermo nella sua decisione e parte. Zuleya, visibilmente commossa, si alza dalla sedia e lo guarda mentre si allontana, incapace di esprimere i suoi sentimenti. In quel momento, un inserviente giunge da Luftier con una notizia allarmante. Fikret ha avuto un grave incidente e la voce della sua morte si diffonde rapidamente. Anche Hakan, venuto a conoscenza per le strade della città della presunta morte di Fikret, si reca immediatamente alla villa degli Yaman, sperando di trovare Zuleya per saperne di più. Tuttavia, improvvisamente, è Fadik a rispondere a una chiamata da Zuleya, che informa le donne che Fikret è grave e si trova ricoverato in ospedale. Hakan, appena informato di ciò, si precipita all'ospedale dove trova Fikret in condizioni critiche. L'incidente si è verificato poco dopo che Cholak ha fatto manomettere le ruote della macchina di Fikret mentre quest'ultimo si trovava in azienda. I medici, purtroppo, non nutrono alcuna speranza per il suo recupero e rifiutano di eseguire un intervento chirurgico, ritenendolo troppo rischioso. Informano che l'unico medico in grado di tentare l'operazione si trova in Germania. Hakan, conscio dell'urgenza della situazione, contatta immediatamente la Germania per rintracciare il dottor Dupont, ma viene informato che è in vacanza in Svizzera. Determinato a salvare Fikret, Hakan si reca in Svizzera per cercare il dottor Dupont. Fortunatamente riesce a trovarlo e gli offre un assegno in bianco affinché accetti di eseguire l'intervento immediatamente. Il dottor Dupont, consapevole della gravità della situazione, accetta di sospendere le sue vacanze e di operare Fikret. Cholac è angosciato dall'assenza di Betul, soprattutto perché è il giorno del loro matrimonio. Ordina immediatamente di cercarla. Improvvisamente arriva Sherman con una notizia sconvolgente. Kadir ha rapito sua figlia. Nonostante Vaap abbia sparato nel tentativo di fermarlo, Kadir è riuscito a fuggire con Betul. Shermin, visibilmente scossa e piangente, racconta quanto Betul fosse terrorizzata e prega Cholac di fare tutto il possibile per salvare sua figlia. Cholac, deciso e risoluto, accetta senza esitazione. Certamente la salverò. Farò in modo che Abdul Kadir paghi per questo. Lo punirò per aver portato via la donna che amo. È un uomo morto! Kadir, assistito da un dottore privato nella sua casa nel vigneto, rifiuta categoricamente di recarsi in ospedale. Tuttavia, è evidente che la presenza della polizia porterà alla scoperta del coinvolgimento di suo fratello Vaap nello sparo. Nonostante il medico tenti di estrarre il proiettile, dichiara che è impossibile farlo e che Kadir ha bisogno di cure urgenti in ospedale. Betul, disperata, lo trasporta d'urgenza in ospedale e chiede agli uomini di non rivelare che Vaap gli ha sparato. Kadir viene immediatamente portato in sala operatoria, ma il medico esprime poche speranze per la sua sopravvivenza. Betul, piangente, si trova divisa tra la disperazione e l'ambizione personale, che alla fine prende il sopravvento sull'amore per Kadir. Abbandonandolo, corre immediatamente da Cholac. Tuttavia, Cholac, tormentato dalla disperazione per Betul, ordina di bruciare la casa e l'officina di Kadir. All'improvviso, Betul fa il suo ingresso e viene accolta da bracci felici da parte di Sherman e Cholac. Con abilità nel fingere, simula commozione e lacrime mentre racconta una storia. Mi hanno portato in un luogo sperduto per incontrare Kadir, in una vecchia capanna. Kadir sta male, l'hanno trasportato in ospedale e hanno lasciato un uomo a sorvegliarmi. In un momento di distrazione, sono riuscita a colpirlo alla testa e a fuggire. Cholac, confuso, chiede perché Kadir avrebbe rapito Betul. Quest'ultima, con voce tremante, risponde di non essere a conoscenza della sua condizione, credendo che fosse in grado di parlare. Nel frattempo, Vaap osserva la scena in silenzio. Betul, con un tono supplichevole, chiede a Cholac di non permettere che l'incidente rovini il loro giorno e lo supplica di sposarla immediatamente. Cholac, entusiasta, accetta con gioia. Ora sono ufficialmente marito e moglie. Betul si apre con sua madre e confessa di amare Kadir, chiedendole se non se ne era mai accorta. Shermin, visibilmente sorpresa, risponde con una punta di irritazione. Assolutamente no. Credevi forse che avrei mai permesso una cosa del genere? Sto per impazzire per colpa tua. Dici di amare Kadir. Se è così, perché sei tornata? Ah, sei tornata solo per approfittare di Cholac. Betul cerca di spiegare che era costretta a fare ciò per evitare di perdere tutto, sottolineando la mancanza di alternative se non avesse sposato Cholac. Shermin, sollevata nel constatare che Cholac ha creduto alla loro storia, riflette con un sospiro di sollievo che, se avesse scoperto la verità, avrebbe potuto reagire in modo molto più drastico. Cholac e Betul festeggiano il loro matrimonio nella residenza di Cholac, circondati dai testimoni e dalla sicurezza. Shermin li congratula e la coppia si concede un romantico ballo insieme. Dopo la celebrazione, Betul prepara una limonata per Cholac, aggiungendo di nascosto la sostanza velenosa che ha procurato per ucciderlo. Presentandogli la bevanda, gli assicura che la ha preparata con amore per lui. Tuttavia, Cholac, sospettoso, rifiuta cortesemente, temendo possibili conseguenze negative per la sua salute. Nonostante le insistenze di Betul e i suoi tentativi di convincerlo, Cholac si mantiene saldo nella sua decisione, preoccupato per la propria incolumità. Betul, vedendo sfumare il suo piano, cerca di insistere affinché beva la limonata, ma Cholac, comprendendo il possibile pericolo, rifiuta fermamente. Realizzando la situazione, Cholac non crede alle scuse di Betul e tenta di costringerla a bere, ma lei, consapevole dei rischi, rifiuta categoricamente. Cholac, furioso, accusa Betul di considerarlo un ingenuo, rivelando di essere al corrente dei suoi loschi piani di vederlo morto, tramando di avvelenarlo dopo le nozze per accaparrarsi le sue ricchezze. Ricorda di aver ricevuto un avvertimento da un misterioso individuo riguardo a un possibile attentato al veleno, individuo che aveva precedentemente venduto la stessa sostanza a Betul. Venuto a conoscenza delle sue malefatte, Cholac ha orchestrato un finto matrimonio, cogliendola in flagrante. Ora, colto di sorpresa dalla sua scoperta, la rinchiude in una piccola stanza, annunciandole che sarà il suo confinamento perpetuo, privandola della possibilità di uscire mai più. Intanto, nell'atmosfera cupa dell'ospedale, il destino di Fikret è appeso a un filo. La sua figura giace immobile, avvolta da un sonno profondo e inquietante, mentre Zuleya, con il cuore stretto dalla paura e dalla disperazione, prega per un miracolo. Le lacrime le solcano il viso, testimoni muti della sua angoscia. Il dottor Senghis, con il suo sguardo serio e compassionevole, tenta di confortarla, ma la realtà è spietata. Nessun medico vuole rischiare di intervenire su Fikret, data la complessità della sua condizione. L'aria è carica di tensione, di speranza appena accennata e di un'ansia palpabile che avvolge ogni gesto e ogni parola. La vita a Chukurova sembra sospesa, come se il destino stesso dell'intera comunità fosse legato al risveglio di Fikret. E mentre le ore passano lente e implacabili, il mistero e il dramma si infittiscono, tessendo una trama avvincente che tiene tutti con il fiato sospeso. All'improvviso, un'aura di speranza invade l'atmosfera dell'ospedale, quando Hakan fa il suo ingresso accompagnato dal rinomato dottor Dupont, un neurochirurgo di fama mondiale. I medici presenti, compreso il dottor Senghis, sono visibilmente emozionati nel vederlo, riconoscendo l'onore che rappresenta la sua presenza a Chukurova. La notizia della sua improvvisa comparsa suscita meraviglia e domande in tutti. Come ha fatto Hakan a portare il miglior neurochirurgo del mondo in così poco tempo? L'arrivo di Hakan e del dottor Dupont riaccende una fiamma di speranza nei cuori di Zuleya e Lutfiye, che non possono fare a meno di esprimere la loro gratitudine e ammirazione. Lutfiye, commossa, si rivolge a Hakan con parole sincere, ringraziandolo per aver loro restituito la speranza. Anche Cetin si unisce ai ringraziamenti, ma esprime anche preoccupazione per il futuro di Hakan a Chukurova. Tuttavia, Hakan risponde con fermezza che è meglio per tutti se se ne vada. Mentre Hakan si prepara a lasciare l'ospedale, Zuleya lo raggiunge, pronunciando il suo nome con voce vibrante di emozione. Hakan, non voglio che tu te ne vada. Resta qui a Chukurova con me. Ma le parole di Hakan rivelano una profonda inquietudine. Lui sa che lei nutre ancora dei dubbi nei suoi confronti, dubbi che lo tormentano ogni volta che lei lo guarda. Zuleya, però, è determinata e afferma con fermezza di non avere più alcun dubbio. Hakan, pur tra le incertezze e le preoccupazioni, le promette che indagherà sulla scomparsa di Demir, cercando di gettare luce su quello che è accaduto. Zuleya accetta le sue parole con fiducia, giurandogli che egli crederà sempre. In un momento di intimità e riconciliazione, Zuleya abbraccia Hakan, mentre i loro cuori si riavvicinano, pronti a sfidare le avversità che li circondano. Betul è prigioniera di Cholak, lo implora di credere nella sua innocenza, di capire che non ha mai voluto avvelenarlo. Ma le sue parole sembrano cadere nel vuoto, poiché Cholak, con tono accusatorio, le rivela di aver ricevuto avvertimenti sul veleno che lei avrebbe tentato di usare contro di lui. La tensione aumenta, mentre Cholak l'ha accusa di aver condotto cadere in ospedale, affermando di essere a conoscenza di ogni mossa a Chukurova. «Ti amavo», le dice con amarezza. «Ti amavo così tanto da essere disposto a tutto per te. Avresti dovuto essere la padrona della mia vita. Avrei fatto di tutto per te. Ma cosa hai fatto? Mi hai tradito. Hai cercato di uccidermi. Hai complottato con il tuo amante per attentare alla mia vita e portarlo qui da me, mentre io ti offrivo tutto l'amore e la ricchezza che avevo. Ora avrai una vita di miseria». Con queste parole, Cholak abbandona Betul nel buio seminterrato della sua villa, lasciandola sola con i suoi pensieri e il peso delle sue accuse. Nel frattempo, Shermin si domanda se Cholak sia davvero stato avvelenato. Nonostante la rapidità con cui solitamente si diffondono le notizie a Chukurova, al momento non si sa nulla. «Ah, Betul!» sospira. «Perché non hai chiamato per dirmi se sei diventata vedova?» Determinata a trovare sua figlia, Shermin si dirige verso la villa di Cholak. Gli uomini avvisati del suo arrivo la fanno accomodare, assicurandole che Betul si unirà presto a lei. Seduta in attesa nella sala, Shermin viene sorpresa dall'inaspettata apparizione di Cholak. La sua presenza la scuote profondamente, tanto da farle quasi perdere i sensi, ma non riesce a scorgere sua figlia da nessuna parte. Cholak, fingendo sorpresa, la interpella. «Cosa succede, signora Shermin? Sembrate aver visto un fantasma?» Shermin, cercando di nascondere la sua angoscia, risponde di essersi spaventata mentre era distratta. Ma Cholak, sarcastico, insiste. «Signora Shermin, adesso siamo parenti, siamo una famiglia. Parliamo apertamente. Non ti aspettavi di vedermi vivo, vero?» Confusa, Shermin nega di capire di cosa stia parlando. Cholak, però, insiste nell'accusarla. «Ammetti di essere venuta per il mio funerale, ammettilo. Perché altrimenti saresti qui a casa degli sposi il giorno dopo?» Shermin cerca di difendersi, affermando di essere venuta per consegnare delle cose che aveva comprato per Betul, ma il tono minaccioso di Cholak la mette in guardia. «Stai mentendo e sei persino più brava a farlo di tua figlia. Tu e tua figlia pensavate davvero di rubarmi la mia fortuna? Entrambe avete giocato contro di me. Era il momento di completare il piano di Betul, ma ora vi punirò entrambe». Tuttavia, Shermin, spaventata, urla il nome di Betul, sperando di riuscire a portarla a casa, ma Betul non risponde. Shermin rimprovera Cholak per sua figlia, ma Cholak irritato, la caccia di casa. Nel caos dell'ospedale, un nuovo capitolo si apre quando Kadir finalmente si sveglia. La sua prima domanda è per Betul, ma gli viene risposto che se n'è andata di propria volontà. Una delusione profonda lo avvolge. Kadir sente il bisogno irresistibile di cercare Betul. Decide di affrontare la situazione, consapevole che le cose non sono come sembrano. Haqqan si confronta con Zuleyya, esprimendo la sua disponibilità a darle tempo, ma sottolineando l'importanza della loro amicizia e del suo ruolo nel salvarla da situazioni pericolose più volte. Poi si reca da Kadir, che, deluso dalle azioni di Betul, riflette sul significato dell'amore tradito. Kadir si sente abbandonato e tradito, convinto che Betul abbia preferito la ricchezza e il potere di Cholak al loro amore. Nel frattempo, Shermin, ora priva della protezione di Cholak, si reca all'ospedale per trovare Kadir. Con voce tremante, le rivela che Cholak ha rapito Betul e non si sa dove la tiene nascosta. Kadir, incredulo, riflette sul fatto che Cholak non sia stato ingenuo come credevano, ma abbia capito il piano di Betul. Shermin, sconcertata dalla situazione, gli chiede se ama ancora Betul. Kadir, afflitto e vulnerabile, confessa di aver amato Betul più della sua stessa vita, credendo che il loro amore fosse reciproco. Ma ora si rende conto che lei ha preferito la ricchezza e il potere di Cholak al loro legame. Le parole di Kadir sono cariche di rabbia e delusione mentre minaccia Shermin, avvertendola che se non scoprirà il nascondiglio di sua figlia, si vendicherà e renderà miserabile la sua vita. Shermin è terrorizzata dalle sue parole, mentre Kadir è consumato dalla delusione nei confronti di Betul. Fikred è in sala operatoria e Lutfiye, ansiosa, attende notizie sull'esito dell'intervento. Il dottor Dupont appare improvvisamente con buone notizie. L'operazione è stata un successo. Lutfiye, sopraffatta dall'emozione, abbraccia Zuleya e Chetin, ringraziando Hakan per aver portato il medico che ha salvato la vita di suo nipote. Nella residenza degli Yaman, l'aria è carica di tensione mentre Shermin si aggira nervosamente per la dimora. All'improvviso, il suo cuore si ferma quando scorge Cholak e i suoi uomini avanzare minacciosamente verso di lei. La paura la pervade quando comprende che Cholak ha scoperto le sue dichiarazioni alla stampa, in cui accusava lui come possibile responsabile della scomparsa di sua figlia. Shermin, terrorizzata, cerca aiuto e si rivolge a Zuleya, implorandola di proteggerla, poiché Cholak è determinato a ucciderla. Zuleya, conscia della gravità della situazione, guida Shermin nella sua stanza e le ordina di chiudere la porta. Mentre Cholak urla minacce e richieste di consegnare Shermin, Zuleya, con fermezza e coraggio, rifiuta categoricamente. Anche se Shermin potesse essere considerata sua nemica, Zuleya non tradisce il suo senso di giustizia e solidarietà. Cholak, sempre più irato, chiede a Zuleya se sia sicura della sua decisione, ma lei conferma con determinazione che quella è la sua ultima parola. La situazione diventa ancora più pericolosa quando Cholak estrae una pistola e la punta verso di lei, minacciando di sparare se non si allontana dalla sua strada. Tuttavia, Zuleya rimane salda nella sua risposta, sfidando Cholak a fare ciò che vuole. In un momento critico, gli uomini di Zuleya, guidati da Gaffur, intervengono armati fino ai denti, circondando Cholak e costringendolo a ritirarsi. Nonostante le sue ultime minacce e i suoi tentativi di intimidire, il malvagio Cholak deve cedere di fronte alla forza e alla determinazione di Zuleya. Con un ultimo grido di sfida, Zuleya esige che se ne vada, salvando così la vita di Shermin. Con coraggio e risolutezza, Zuleya ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria eroina, proteggendo non solo Shermin, ma anche il suo senso di giustizia e umanità in un momento di estremo pericolo. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete. Voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!